La torre si ritrova il Novara a Sassari, là dove l'aveva lasciato dieci anni fa in C1 nell'ultima sfida, quella a cui si riferiscono le immagini, datata 17 ottobre 2004. Terminò 2-0 per i rosso-blu. Da allora le compagine hanno preso strade diverse, i piemontesi tra la Serie A e la B, prima della retrocessione dello scorso anno, un ricorso respinto per la riammissione quest'estate e ora il campionato di Lega Pro per vincerlo. Non a caso la squadra allenata da mister Mimo Toscano conta tra i suoi giocatori con un curriculum pesante sulle spalle, tra questi anche i due ex, il rosso-blu, Simone Pesce e l'attaccante Felice Evacuo. Chiuso il cassetto a Marcord si guarda al presente. La torre si riduce da una vittoria domenica scorsa, si è allenata tutta la settimana con un uomo in più, il centrocampista Lorenzo Remedi, ha recuperato per l'attacco Saveriano Infantino ma non dovrebbe modificare l'undici iniziale dell'ultimo turno. Testa tra i pali, Migliacce Marchetti Centrali, Ligorio a sinistra e Caffiero a destra. Nel 4-2-3-1 di mister Costantino confermati in mediana Pizza e Giuffrida, sugli esterni Lisai e Foglia, con Maiorino al centro, dietro la punta Balistreri. Ancora secco di gol ma fondamentale e generoso nel suo lavoro oscuro di tener palla, far aprire la squadra e favorire l'inserimento dei compagni. Il Novara si opporrà con il 3-4-3, la formazione probabile è Tozzo in porta, difesa con Martinelli, Garufo e Freddi, i 4 al centro Faragò, Miglietta, Pesce e Garofalo e il trio d'attacco Gonzales, Corazza, doppietta per lui nell'ultimo turno ed evacuo. Squadre distanziate di un solo punto in classifica, terza miglior difesa la Torres, 4 gol subiti, quinta il Novara con 5, che ha segnato però di più finora, 8 reti contro le 5 rosso-blu. Sassaresi con un bottino di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, piemontesi con una sola sconfitta ma tre pareggi incassati e due sole vittorie, entrambe tra le muramiche dello Stadio Piola. L'anticipo del settimo turno di Lega Pro si giocherà domani alle 14.30 agli ordini del signor Melidoni di Fratta Maggiore, si aspetta il grande pubblico, biglietteria aperta in via Romita oggi fino alle 19 e domani fino alle 14.